Il resto del Carlino, quotidiano NET ad Arte Fiera 2014. Siamo con Patrizia Raimondi dell'Ariete, Galleria L'Ariete di Bologna. Quali artisti avete portato quest'anno? Quest'anno abbiamo pensato di avvicinare artisti di mercato internazionale, caratura internazionale, ad artisti giovani su un tema per noi fondamentale che è quello della tecnica. Cioè ci interessava far vedere come l'impegno nella qualità pittorica e ovviamente nell'approfondimento poetico possa permettere di avvicinare artisti di generazioni ovviamente diverse, ma anche di notorietà diversa. Quindi alla fotografa americana Beth Moon, nota internazionalmente nel suo settore, Donald Batchler, Chantal Joff, Aldo Mondino e altri artisti, Mimo Paladino e altri artisti ovviamente di riconosciuta fama, abbiamo avvicinato artisti più giovani che però noi riteniamo di qualità adeguata per stare loro vicini, come Ettore Frani, Rudy Cremonini, Banni Spazzoli e Nicola Samori. Qui alle nostre spalle cosa vediamo? Abbiamo Ettore Frani, fra l'altro mi fa piacere dire che ha appena vinto un riconoscimento come artista dell'anno sotto i 45 anni per il percorso espositivo e di lavoro attuato nel 2013, che lo ha visto fra l'altro invitato in diverse mostre istituzionali importanti, sempre con progetti realizzati appositamente, a mio avviso di notevole impatto sia visivo che qualitativo per la tecnica d'olio che lui usa su tavola alla maniera antica, cioè di velature. In questo particolare caso abbiamo portato alcune opere significative anche delle sue riflessioni di carattere poetico. La ringrazio. La ringrazio.